Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla PPLI per lavori di messa in sicurezza tra Monte Lupo ed Empoli ci sono code tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Mare. Il traffico scorre regolare su tutto il resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna è chiuso il transito ai mezzi pesanti tra il bivio per la variante di Valico e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. La regionale 70 della Consuma è chiusa fino alle 15 dal chilometro 0 al chilometro 13 per una competizione automobilistica. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!